In bassa Valsugana c'è il comune Trentino con la più alta incidenza di residenti all'estero. La legge 379 del 2000 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e i loro discendenti. In Trentino sono circa 63.000 i residenti all'estero iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Samone è il comune Trentino con l'incidenza più alta di residenti all'estero. Per ogni abitante un altro risiede fuori dai confini nazionali. Sono 553 i residenti in paese e 571 gli iscritti all'aire. Un'incidenza del 103%. Esiste un altro Samone in giro per il mondo. Le richieste di iscrizione sono relative a cittadini residenti per lo più nell'America del Sud, Brasile in prima posizione.